cari amici di motorsport.com ciao a tutti benvenuti in questa nuova puntata di pillole di tecnica in cui andiamo a ripercorrere la storia delle monoposto più iconiche della formula 1 e lo facciamo attraverso gli aneddoti ma soprattutto attraverso i disegni del nostro Giorgio Piola ciao Giorgio ciao Beatrice ciao a tutti allora caro Giorgio in questo nostro viaggio nella strada della formula 1 ci siamo fermati in diverse epoche e per chi si fosse perso le nostre puntate precedenti invito ovviamente a recuperarle si possono trovare nella playlist pillole di tecnica all'interno del nostro canale oggi Giorgio vi vogliamo portare nuovamente negli anni 70 per parlarvi di una monoposto di cui abbiamo già accennato qualcosina sto parlando della lo faccio dire a te Giorgio ormai è tradizione McLaren M23 come mai proprio la M23 perché è stata la rivale della Ferrari B3 fra l'altro devo dire un aneddoto personale per conto mio credo che la stagione 74 sia stata la mia migliore dal punto di vista lavorativo perché ho fatto due serie di sviluppo di queste due monoposto sia la Ferrari B3 che la McLaren M23 che non ho mai più potuto fare al credo almeno una ventina di disegni di dettagli sulla stagione con tutti tutti gli sviluppi fate da queste due monoposto e con anche interviste lavori che quindi sono state credo è stata la mia stagione migliore perché sia quella Ferrari ne abbiamo già parlato con la B3 con Mauro Forglieri e sulla McLaren M23 c'è stato di nuovo un grandissimo lavoro e interviste importantissime tra l'altro ho iniziato proprio in quegli anni nel 73 la collaborazione con Autosport inglese che è il più grosso giornale di Formula 1 al mondo e furono pubblicate queste mie storie credo su sei pagine quindi veramente è stato un anno di grandissima soddisfazione. Bello siamo già partiti col botto Giorgio in questa puntata ma ci arriviamo per gradi prima ovviamente voglio farti parlare un po' di di questa macchina una monoposto che ha disputato le stagioni di Formula 1 in una buona parte degli anni 70 tra l'altro sono stagioni importanti non solo per la tua carriera Giorgio ma anche per quello che accade in Formula 1 poi pian piano ci arriveremo parlami un po' di questa monoposto da chi è stata disegnata progettata quali erano le sue caratteristiche. Bello avevamo un po' accennato parlando la Lotus 72 che la M23 sarebbe stato il logico sviluppo fatto con un po' più diciamo di sicurezza e anche più di affidabilità da parte appunto della McLaren niente più radiatore sul muso il muso a cono però con forme non estreme come quelle della della Lotus i radiatori nelle fiancate quindi una nuova generazione di monoposte si contraponeva appunto con la Ferrari B3 che anche questa ancora in maniera più estrema aveva queste soluzioni. La sicurezza lo si vede subito gli estintori messi all'interno dell'abitacolo mentre sulla Lotus 72 erano laggiù a Penzoloni una monoposto fatta da un gruppo di progettisti veramente importanti perché il capo il progetto era di Gordon Kopuk che è stato un progettista molto importante per la McLaren e assistito dal giovanissimo John Barnard e fra l'altro lo avevo già accennato quando sono andato a intervistare per fare appunto la storia tecnica di tutti quei disegni che mi ero che avevo fatto durante la stagione sono andato nella sede della McLaren e quel giorno lì non c'era Gordon Kopuk in un primo momento io ero un po' dispiaciuto perché Gordon lo avevo conosciuto ai Gran Premi quindi avevo installato un buon rapporto mentre mi sono visto arrivare questo giovane ingegnere che non avevo mai visto perché evidentemente stava in fabbrica però l'intervista è stata bellissima importante molto dettagliata e come ho già raccontato poi c'è stato un altro aneddoto curioso perché al giornale io mandai l'intervista e all'epoca il capo responsabile il capo redattore era Ian Phillips dicendogli di aggiustare un po' il mio inglese io ecco un'altra premessa io quando ho fatto le interviste in vita mia non ho mai voluto abbellire le frasi le mie interviste sono sempre state le mie domande e la trascrizione precisissima di quello che mi scrivevano mentre adesso c'è un po' la mania di infiorire e di fare mettere aggettivi più belli scrivere un po' meglio fare titoli eclatanti sono tutte cose che a me non sono piaciute e credo che siano anche parte del fatto che sono sopravvissuto bene senza essere mai picchiato dalla gente che intervistavo e quindi è successo questo piccolo intoppo di fatti quando volevo ritrovare la trascrizione di questa intervista andando a digitare intervista Gorgon Coppuc McLaren M23 non si trova perché bisogna digitare Ian Phillips perché alla fine si sbagliarono lo firmarono Ian Phillips l'esordio della M23 Giorgio si registra nel gran primo del Sudafrica del 1973 con Danny Halm campione del mondo del 67 tra l'altro un'annata molto discussa quella perché lui di fatto aveva fregato il titolo al datore di lavoro Jack Brabham che poi decide di di licenziarlo giusto e vedo che sì 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 tra l'altro sai era difficile litigare con Danny Halm perché abbastanza pacifico però pensa che veniva chiamato Bear orso di dimensioni notevole dall'aria che forse era meglio non litigare con lui e anche qui nel 74 poi ho fatto un'intervista anche questa importantissima perché tutti lo ritenevano un pilota molto difficile invece sulla tecnica fu fantastico c'è proprio una foto che siamo seduti a Cagliarami bellissima la foto nel giardinetto vicino alla piscina e per fortuna non ci sono mai finito vestito dentro cosa che è successa un po' a quasi tutti ma un anno per non finire dentro mi attaccai a un palo della luce molto sottile Vittorio Brambilla incominciò a tirarmi e piegammo il palo della luce ma io non finì in piscina no ma anche perché anche Brambilla era un omone alto muscoloso Brambilla credo che sia stato la persona con le mani più forti che io abbia mai visto in Formula 1 una volta a Monte Carlo ero seduta in un ristorante che avevo le spalle all'esterno della finestra lui dall'esterno mi ha sollevato e allora non pesavo quello che peso adesso ma i miei 80 li pesavo ho avuto due lividi blu per una settimana e mi ha sollevato dal tavolo Vittorio era pazzesco comunque quell'intervista è stata molto bella molto tecnica appunto parlava di tutte le differenze di poi dei con i disegni e di fatti si proprio che abbiamo sul tavolino il foglio dei miei disegni io che chiedo a Dennis e lui che che spiegava spiegato in maniera fantastica ma ti ha mai detto qualcosa in merito a quel mondiale cioè che lui non si era fatto problemi a fregare il titolo a Brabham no perché all'epoca io ero ancora schiavo della mia educazione che a casa mia mi dicevano che non bisogna parlare con gli estranei quindi tu pensa com'è stato difficile per me fare il lavoro anche di giornalista perché il disegno è stato il sogno della mia vita quindi non avevo nessun problema quindi io quando non ero molto incline a far domande soprattutto i primi anni a far domande che potessero essere o personali o imbarazzanti in quel caso io dovevo fare il giornale sia per autosprint sia per autosport inglese la tecnica e quell'intervista è stata tutta tutta basata su sulla tecnica senza nessuna domanda personale. Alme tra l'altro nel gran premio di esordio della M23 conquista subito la pole position ma in gara chiuderà in quinta posizione ma nel corso della stagione comunque la vettura chiuderà prima in Svezia Gran Bretagna e Canada nel 70 qua dimmi non volevo. E aveva fra l'altro una livrea diversa perché aveva la colorazione della Yardley mentre poi nel 74 è diventata Malboro Texaco. Sì e infatti arriviamo proprio all'anno 74 quando arriva in squadra Emerson Fittipaldi uscente dalla Lotus come l'abbiamo già detto sia prima sia anche nella puntata dedicata alla Lotus 72 la McLaren M23 in questo caso riprende un po' il modello Lotus 72 nella forma dicevi Giorgio? Sì questa macchina è diciamo la logica e saggia evoluzione della Lotus 72 e fra l'altro una scocca decisamente più larga più comoda infatti sia Dennis Alme era abbastanza robusto ma anche Emerson poi non era molto piccolo e una monoposto che era caratterizzata all'inizio da anche un sistema di sospensione che era stato introdotto dalla McLaren con la M19 di Ralph Bellamy quella che veniva una chiamata rising rate eh sospensione anteriore che era una eh a progressione variabile e c'è un primissimo schema anche di eh pull rod perché il bilanciere era collegato il l'amortizzatore era collegato a un piccolo bilanciere e poi a un tirante e questo permetteva una maggiore regolazione e durante la stagione sono state fatte varie modifiche e un'altra modifica molto importante che l'ho proprio eh disegnata proprio tutte le volte che venivano fatte veniva lavorato si lavorata tantissimo sull'anti eh sull'anti dive al retro all'antiscuota al retrotreno con gli attacchi ai tiranti della scocca venivano c'erano due tiranti longitudinali molto lunghi sulla scocca ebbene questi attacchi hanno subito un notevole sviluppo durante la stagione proprio per cercare di ottimizzare equilibrare al massimo l'assetto di questa monoposto e questo è stato forse il lavoro più importante fra l'altro un'altra chicca mentre nella la McLaren utilizzava un cambio diverso da quelli delle altre squadre lo Yulan LG 400 che era più sofisticato rispetto agli altri e poi si è lavorato anche sul passo della vettura che è stato leggermente allungato quindi il la presa d'aria che da da squadrata poi è diventata mano a mano sempre più aggraziata per poi diventare molto alta a periscopio quindi un grande lavoro di sviluppo addirittura anche un esperimento di un'ala posteriore messa bassa sbalzo in maniera incredibile molto distante dalla vettura che però poi credo al Gran Premio di Spagna ecco faccio un'altra premessa mi scuso per chi ci ascolta a me non piace quello che ormai è diventata la moda che tutti ormai sono diventati padroni di tutta la storia della Formula 1 a me non piace andare a vedere Wikipedia per determinare tutte quante le cose io quando facciamo questa trasmissione e faccio questa trasmissione con te vado soltanto alla mia memoria quindi potrebbe esserci qualche piccolo intoppo in termini di date di 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 proprio determinazioni quando le cose sono fatte io guardo i miei disegni e cerco di ricordare quello che mi hanno procurato l'emozione la scoperta quando per esempio ho scoperto qualcosa che gli altri non avevano visti e non mi e non non ho molto piacere andare a voler poi fare il saccentino per dire è stato introdotto esattamente a quel Gran Premio nelle prove libere non mi interessa a me interessa cercare di far capire alla gente quello che abbiamo vissuto in quelle stagioni che sono state fantastiche c'è da dire c'è stata anche purtroppo la morte di Peter Redson in in quegli anni quindi è stato quello è stato il primo grande brutto episodio della della mia carriera perché era un pilota molto bravo fra l'altro un uomo estremamente affascinante quindi molto seguito e poi purtroppo queste cose succedevano era la parte negativa del anni 70 e 80 tantissimo ne abbiamo parlato anche nelle nostre chiacchierate precedenti se potevano essere decenni molto belli dal punto di vista della tecnologia delle tecniche delle innovazioni che presentavano le macchine che erano tutte così incredibilmente diverse c'era il rovescio della medaglia che appunto si iniziava la stagione con un tot di piloti e non si sapeva se a fine anno si era ancora lo stesso numero la stagione settantaquattro Giorgio tra l'altro una stagione molto particolare perché saranno Emerson Fittipaldi che le regazzoni con la Ferrari a giocarsi il titolo mondiale alla fine avrà la miglio Emerson Fittipaldi ma un pilota di cui anche per un motivo perché regazzoni l'alda si sono inzuccati un casino di volte al primo giro alla partenza e fra l'altro io l'ho già raccontato mi divertiva fare le foto che Giancarlo Piccinini del lato al foto mi ha insegnato cioè a prova di sbaglio mi fa metti velocità 500 e fai le foto io dato che non ero proprio un fotografo non andavo a scarpinare lungo tutto il circuito per cercare diciamo la curva più bella l'angolazione più bella per fare le foto la facevo quasi sempre alla prima curva dopo la partenza perché alla partenza andavo a guardare tutte le monoposto poi correva la prima curva e devo dire che quell'anno lì l'auda e regazzoni si sono inzuccati almeno tre se non quattro volte e quindi io avevo le foto autospinta pubblicato quelle foto che poi erano targate atto al foto perché io non essendo un fotografo le davo a Giancarlo e devo dire che purtroppo Emerson si è trovato un mondiale messo su un piatto d'argento mentre credo che la Ferrari anzi non credo la Ferrari quell'anno sicuramente avrebbe meritato di vincere il titolo piloti anche. A Monaco nel 74 la McLaren ha introdotto sulla M23 una soluzione del tutto inedita e particolare praticamente il muso è diventato molto più stretto quasi a freccia e sulle paratie laterali delle delle ali sono state poste due asticelle come le bandierine come appaiono per esempio sulle limusine dei capi di stato del Papa proprio per cercare di aiutare i piloti e vedere precisamente fin d'ora a che punto mettere l'ala anteriore senza rischiare di danneggiarla contro il Garay. Altra piccola particolare Denis Salm all'Oves alzava una mano e faceva tutta la curva dell'Oves quindi sterzo e contro sterzo con una sola mano perché si era fatto male a Indianapolis e utilizzava una sola mano in una maniera molto elegante e estremamente curiosa. Ma secondo te Clay era un pilota che fa parte di quel gruppo di piloti abbiamo parlato anche di Ronnie Peterson qualche puntata fa che avrebbe meritato la conquista di un titolo aveva tutte le carte per poter conquistare un titolo. Quel titolo lì era suo se non ci fossero stati questi incidenti e se la squadra avesse puntato tutto su di lui. Difatti devo dire che credo che sia una cosa che non ha mai superato mi è sempre rimasta questa amarezza in corpo poi ovviamente diciamo oscurata dall'incidente ancora che ha avuto per cui si è ritrovata ancora una disgrazia ancora maggiore e una sfortuna pazzesca perché se tu pensi in quell'incidente di Long Beach con l'Ensayne lui era perfettamente in leso soltanto che il motore ha sfondato nell'urto frontale contro le barriere è stato il motore che ha sfondato la centina posteriore della vettura e ha ricevuto una compressione sulla colonna vertebrale ma credo se non sbaglio nemmeno una goccia di sangue però purtroppo poi si è ritrovato per quella compressione paraplegica e quindi questo è stato ovviamente un problema ancora maggiore però l'aver perso il titolo in quella maniera lo aveva veramente amareggiato tantissimo e sarebbe stato suo quindi lui aveva tutte le carte in regola per vincerlo. Sono contenta che hai parlato anche di lui perché penso sia uno dei tanti piloti amanti delle corse del motorsport che ha avuto un destino veramente infelice tanto quanto crudele ed è bello comunque anche ricordarlo. Andiamo al 75 Giorgio qui ci sono degli sviluppi sulla McLaren M23 come per esempio il cambio a 6 marce che era una grande novità per l'epoca. Sì che era quel Uland FG 400 che avevo parlato e come vedi piccolo primo errore perché è arrivato nel 75 e vabbè chiedo scusa comunque e poi anche il passo è stato allungato appunto la presa d'aria è diventata alta e quindi una monoposto veramente voluta e importante. Fittipaldi chiuderà la stagione in seconda posizione alle spalle di Niki Lauda che guida una straordinaria Ferrari 312T è una delle mie monoposto preferite in assoluto quella macchina è vera e secondo me è un gioiello. Sì anche perché il regolamento aveva... ah no la T era ancora con la presa d'aria alta il cui stavo per fare un altro errore nell'anno successivo per quanto mio è diventata ancora più bella perché con l'abolizione della presa alta quelle due prese Naka per alimentare il motore la rendevano ancora più bella e comunque a questo punto è venuto fuori tutto il maggiore potenziale della Ferrari T che era praticamente la figlia diretta della B3 perché la macchina era praticamente la stessa c'è stato soltanto ecco perché veniva chiamata T la sostituzione del cambio longitudinale con quello trasversale che fra l'altro migliorava ancora il comportamento dinamico della vettura perché non c'era niente più il peso a sbalzo a retrotreno migliorava anche proprio tutta la configurazione aerodinamica e quindi è stato anche nel 75 un anno importante e giustamente non perché siamo italiani ha vinto la Ferrari che era stata la macchina migliore e poi arriva al preludio di quello che avrebbe dovuto per conto mio essere un altro titolo mondiale della Ferrari nel 76 e c'è stato purtroppo il comportamento un po' ambiguo all'ultima gara di James Santi i piloti si erano messi d'accordo che in caso di pioggia si sarebbero ritirati Nicky si è ritirato James invece no però è stata una stagione di lotta molto alla pari tra le due monoposto e appunto con la proibizione dell'airbox ha fatto sì che alla Ferrari arrivassero queste due prese NACA molto eleganti e alla McLaren queste prese a L2L a lato del casco del pilota anche queste molto efficace molto bello è stata anche una stagione dove ci sono state un po' di polemiche tra le due squadre perché ovviamente poi quando il livello diventa così competitivo così alto si cerca sempre anche di sfruttare tutte le cose e al Gran Premio di Spagna la Ferrari fece un reclamo alla McLaren per la squalifica per l'alettone no no fu poi squalificata l'ho fatto ben preciso un disegno perché all'epoca ero un po' più brave più attento di adesso e cos'era successo alla McLaren hanno cambiato per la domenica i cerchioni delle ruote e i cerchioni avevano una misura leggermente diversa e il profilo del pneumatico diventava un po' più panciuto e c'era un limite di larghezza come c'è sempre stato come c'è ancora adesso della vettura misurata all'esterno dei pneumatici e il fatto che la spalla del pneumatico fosse con un profilo più gonfio aveva fatto come risultato che la Ferrari chiedendo le misure della McLaren a fine gara la larghezza massima veniva superata di circa credo 15 o 18 mm c'è scritto nel mio disegno guardatelo che te l'ho mandato ma l'ho guardato in fretta sempre per quel solito discorso perché intanto c'è scritto sopra e poi c'era un altro piccolo particolare i radiatori dell'olio erano verticali a sfioramento della larghezza massima invece che era 140 invece avrebbero dovuto essere entro 120 quindi dalla gara successiva la McLaren li rimise in ordine e quindi diventò di nuovo regolare immediatamente al Gran Premio di Spagna la McLaren fu squalificata ma poi con l'appello della squadra inglese venne riamessa questa vittoria venne data a James Hunt e questo fu anche questo particolare determinante per la conquista del suo titolo mondiale è stata una stagione talmente bella e talmente emozionante e talmente piena che addirittura Ron Howard ha deciso di farci un film romanzando molto comunque poi il finale perché diciamo che Rush non è un documentario è semplicemente una storia un po' romanzata infatti non è stato per coraggio di avere paura che Nicky decide poi nel Fuji di ritirarsi perché come hai detto tu Giorgio c'era questo accordo di doversi ritirare solo che poi Hunt non si ritira e di fatto va a conquistare il titolo visto che stiamo parlando di questo mi è venuto a mente perché qui adesso io più che tecnico ogni tanto stiamo facendo gossip un episodio dell'anno 74 quando il Gran Premio d'Ausia fu vinto da Brambilla sotto quella pioggia torrenziale e ci fu quel testacoda quando lui passò il traguardo quando passa che aveva le braccia così e fece un testacoda all'epoca la gara soprattutto perché c'era la pioggia io la guardavo nel motorhome della Texaco che era messo proprio praticamente subito dopo il traguardo all'inizio della salita e dentro il motorhome c'era Maria Elena Fittipaldi che è la moglie di Emerson che vide questa massa arancione perché la macchina di Brambilla era arancione e il colore allora della McLaren era un rosso molto sviadito molto arancione e per un attimo ebbe paura e credete che fosse Emerson e mi ficò due unghiate nel braccio Dio mio Emerson e invece dico no guarda che non è Emerson è Vittorio però prima che io dicessi no guarda Emerson è Vittorio ci sono rimasti dei bei segnetti delle unghie di Maria Elena ma questo era sempre per dirti come eravamo a quell'epoca tutta una famiglia l'ho raccontato non per cose ma proprio per simboleggiare quanto stupenda fosse a parte il discorso degli incidenti fossero stupende quelle stagioni perché eravamo tutti assieme a mangiare tutti assieme nello stesso ristorante nello stesso albergo e quindi si viveva tutta la stagione in maniera veramente diversa da quella che è adesso c'era un rapporto veramente diverso tramite le tue parole è bello immaginare come era la Formula 1 di quel tempo ascolta noi abbiamo parlato del campione del mondo del 76 così accennandolo James Hunt però tu lo sai che a me piace molto la storia di quel pilota soprattutto per il team stravagante con cui debutta in Formula 1 ovvero la ESCAT stupendo veramente stravagante sì era un team che di fatti poi ha fallito erano quasi sempre vestiti tutti di lino bianco erano tutti giustiziamente più grassi di me sia da Lord Desk che Bubble House che era il team principal l'unico che era fisicamente a posto era Harvey Posterwhite che era il progettista ma quello che mi fa ridere e che mi diverte di questo team è che c'era questa atmosfera di credo che forse gli inglesi lo possano vedere quando vanno alle gare di galoppo e di fatti il team era basato sulla proprietà di Tauster di Lord Basket dove c'è la pista di galoppo e basta dire una cosa è stato credo non vorrei sbagliare ma forse il primo team avere un motorhome ebbene in questo motorhome dove erano poi invitati pochissimi ma all'epoca eravamo pochissimi c'era addirittura anche quella famosa gruppo di giornalisti studiato da Bernard Cahier l'International Racing Press Association che si poteva entrare dopo che avevi fatto solo dieci gran premi per tre anni consecutivi avevamo una fascia speciale di cuoio che era in più a quello che veniva affadato di lasciapassare o dalla federazione o dalla form che fosse e va bene in questo motorhome era fantastico perché oltre a essere sempre tutti perfetti vestiti di lino bianco e tutto quanto si beveva soltanto Krug e si mangiava soltanto Aragoste Aragoste, bellissimo era un punto bellissimo però ti dà già un po' l'idea di come questa squadra e nonostante tutto però fecero la marcia modificata appunto da Harvey Post che fu molto competitiva quindi James Hunter si mise subito in mostra e anche la successiva era una macchina un po' estrema con un telaio molto particolare molto basso delle sospensioni anche queste del tutto particolari non fu così di successo però comunque queste due macchine sono due macchine importanti nella storia poi purtroppo i soldi sono finiti e la basket è finita e James è andata a guidare per la McLaren a questo punto con l'autorità di un pilota importante racconto un altro episodio sempre buffo perché James aveva quest'aspetto così spavaldo di proprio di cavaliere che va a lottare contro tutti quanti non so per quale episodio non mi ricordo più se era Okinaim o dove ci fu un episodio con Mario Andretti e Mario Andretti scese dalla macchina andò da lui e gli diede credo un pugno in testa sul casco o una decennia e lo invitò a scendere e James che era molto alto nell'abitacolo ha fatto il classico gesto di abbassarsi leggermente nell'abitacolo come per dire io di qui non esco e c'è stato questo piccolo battipecco e credo una volta anche con Brambilla per cui mentre lui invece ha fatto un episodio tipo un po' quello di Piquet a Harama con Emilio De Villotta c'è stato un incidente fra i due Emilio De Villotta l'ha scontrato e si sono scontrati credo nella curva su in cima alla discesa che poi porta al traguardo James aveva Emilio De Villotta che camminava davanti e lui dietro per un ventina cinquantina di metri non ha fatto niente poi ha preso una piccola rincorsa ha dato un calcio nel sedere a De Villotta poi l'ha passata e è finita lì però il calcione nel sedere gliel'ha rifilato però questi erano episodi non antipatici e non era stato niente di pazzesco quello di Piquet con Salazzare era stato decisamente un po' più violento Giorgio io vado avanti un attimo con il racconto cronologico della macchina anche perché oramai il nostro tempo sta volando quando ci si diverte vola sempre il tempo andiamo un attimo a trattare velocemente la stagione del 77 perché qui la McLaren inizia ad utilizzare un modello 26 che era stato portato in prova nel 76 ma mai in gara la M23 comunque viene utilizzata nella prima parte della stagione in cui James Hunter va a conquistare le prime triple position senza però riuscire mai a vincere i migliori risultati sono un secondo posto di Ante in Brasile e di Joachim Mas in Svezia mentre nella seconda parte della stagione la M23 viene utilizzata giusto per far guidare un terzo pilota oltre i due titolari come ad esempio in Inghilterra nel 16 luglio del 77 ci fu l'esordio in pista di un certo Gilles Villeneuve poi a Monza invece toccò a Bruno Giacomelli l'ultima volta che la M23 disputò tra l'altro una gara iridata nel 1978 il Gran Premio d'Italia alla guida c'è un certo Nelson Piquet che chiuderà se non erro in nona posizione io ti voglio chiedere in questi pochissimi minuti che ci restano tu ti ricordi le sensazioni che hai provato quando hai visto esordire Villeneuve? e beh sì e anche perché se non sbaglio fu a lui che capitò l'incidente che ci fu un cacciavito o qualcosa del genere all'interno dell'abitacolo comunque dimostrò subito il suo talento e qui abbiamo nominato anche un altro pilota che a me piace tantissimo ricordare che è tuttora fra l'altro l'ho visto l'ho visto recentemente a una gara storica di vetture storiche Jochen Mas Jochen Mas è stato un grande gentiluomo un grande pilota purtroppo la sua carriera è stata rovinata da quel suo senso di colpa sull'incidente di Villeneuve perché Villeneuve si è scontrato in Belgio con la sua monoposto quando lui pensando di aiutarlo si è spostato invece purtroppo è stata la manovra sbagliata e qui però come dimostra quanto però la M23 fosse una vettura molto in grado di durare tanto perché appunto anche nella stagione 78 con la nuova M26 che è stata la prima col telaio Honeycomb molto una nuova tecnica costruttiva introdotta appunto dalla McLaren è stata una monoposto importante appunto il debutto di Villeneuve il debutto di Piquet e quindi una vettura che si porta a casa una grande storia io sapevo che questa sarebbe stata una puntata eccezionale perché abbiamo affrontato tanti temi tanti piloti e speravo tanto che venisse fuori una puntata del genere sono molto contenta mi scuso un attimo solo perché forse l'ho trasformata un po' più in gossip però come quello che ho sempre detto che a me dà fastidio quando qualcuno mi chiama ingegnero come qualcuno pensa che debba dare le lezioni il mio lavoro l'ho sempre fatto per passione e mi sono sempre piaciuto ancora più che ricordare esattamente il passo era 3756 e tutte queste cose mi piace di più ricordare quello che il mio lavoro ha rappresentato come emozioni e quello che vorrei far capire a chi ci ascolta che la formula 1 anche la tecnica crea emozioni e crea passione non sono soltanto i piloti con le loro geste ovviamente fantastiche e sono i primi protagonisti però anche gli ingegneri e anche le macchine hanno creano emozioni e lo scopo della nostra rubrica Giorgio era proprio questo era il mio obiettivo e penso che sia stato centrato siamo arrivati praticamente però alla conclusione di questa nostra chiacchierata Giorgio io invito i nostri amici se non lo hanno ancora fatto ad iscriversi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche io ovviamente vi ringrazio per averci seguito ringrazio te caro Giorgio è stato un bel viaggio nel tempo mi piace moltissimo mi piace veramente tanto è stata una stagione fantastica tra il 74 quindi mi sono un po' gasato forse no va benissimo così un saluto ai nostri amici ciao Giorgio al prossimo video grazie a tutti